Ciao ragazzi, per questo mio nobissimo video e guardate ho Mr. P per chi non lo sapeva Maxine vabbè, non dovresti sapere Colt al 9 e nel negozio un epico quindi noi adesso andiamo a prenderci Bibi e Tara Ninja Urbana come sapete già di tutto lato quindi andiamo a prendere prima Bibi e l'andremo a provare facendo una partita e poi andiamo a prendere Tara Urbana Tara Ninja Urbana e faremo un'altra partita e ecco a noi Bibi ragazzi ultimo epico preso benissimo andiamo a provare una partita di singola e vediamo come ci andrà speriamo bene speriamo che sia forte anche se volevo tanto Bibi Eroica è troppo figa dovete ammettere allora ragazzi ma si ricarica velocissimo che cavolo si ragazzi benissimo che cavolo andrà se stile due tanto non perdo coppia con lei è il grado uno per fortuna direi allora aiuto subito ti andrà a ricordate di vedere questo video fino alla fine dirlo a tutti di questo video farlo vedere a tutti i vostri amici iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto mettete mi piace e mettetevi nel club ok andiamo a prendere Tara Ninja Urbana presa e ora abbiamo Tara Ninja Urbana con 54 e allora Berri il raviolone sei dai nostri Tara Ninja Urbana perché forse andiamo a ciupare anche Berri il raviolone Tara Ninja Urbana che è fighissima sempre una partita in singolo che con lei ci sa giocare meglio che non c'ho invece con Bibi non ci avevo mai giocato sì ma che figa è troppo bella ma muori muori corvo ma perché tutti hanno corpo in questo in questo momento non so che cosa è successo ragazzi però niente a voi no io non muoio così facilmente con Tara mi spiace soprattutto avevo sciuppato questa skin che costava 80 gemme io però ne avevo 304 eh ragazzi bisogna farsi le scorte perché i youtuber si fanno le scorte se no non potremo mai registrare così tante non potremo mai sciuppare così tante cose per voi dai non voglio rimanere là non me la voglio camperare questa partita soprattutto perché ci siete voi quindi non voglio camperarmela dai un colpo voglio vedere la ulti se è un po' diversa l'ho già provata solo che l'ho provata un po' di tempo fa no se non mi fai provare la ulti perché muoio prima vabbè è un po' diverso dai vinti dai però è stato un asquisto bellissimo è troppo bella ragazzi guardatela benissimo e non so se farlo o no ragazzi ho deciso ho però anche pelle per forza da 80 a 49 ma non si fa se lo parla vado ma no allora andiamo a provarlo no eccoci si è benissimo non lo usa molto barrel però vabbè ormai fatto quanto spara spara però freddo sopra di parola che l'ulti si ricarica così senza senza che devi colpegare altrimenti la l'ulti si fa una cosa è bellissima ma sto facendo il devasto non so cosa vi è durato meno del solito però penso che non crederò così scrivete mi mettete mi piace vatelo guardare a tutti i vostri amici iscrivetevi al club mettete fr come il nome e ci vediamo in un minuto ci vediamo ci vediamo